Grazie a questo allenatore di merda siamo al quarto posto. Con fatica ci siamo riusciti, avendo fallito tre obiettivi raggiungibili che lui non ha voluto prendere. Mediocre, incoerente e frega soldi. Ci è rimasta soltanto un altro obiettivo da raggiungere. Coppa Italia 11 maggio ore 21. Poi ci sarà il calcio mercato in cui non sapremo i giocatori che compreranno perché abbiamo una società di merda che non valorizza né vuole spendere soldi facendo un'altra annata di merda come quest'anno deludendo molto i tifosi, i juventini non so se sono allegriani o sordi a non vedere quest'allenatore che non capisce nulla di calcio essendo che va in conferenza stampa non capendo neanche lui cosa sta facendo o cosa dice e i giornalisti ci credono anche sulle fesserie che lui dice ma non è neanche convinto lui avendo una mentalità del 1850 arretrato anni luce e fermo tre anni in cui ha raccimolato moltissimi milioni ritornando alla Juve a fare schifo come sempre non valorizzando i giovani né altro se il video vi è piaciuto commentato like commento campanella notifiche ciao